ben a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video come al solito io sono gabrie io birillo oggi andremo a fare vedere il nostro nuovo liquido vai birillo esponicelo allora il liquido si chiama mister dotnut ciocco ciocco biscotto e sbappo a volontà ora andiamo a fare la prova a questo liquidozzo importato e distribuito dalla global vape variabile e dovrebbe essere una ciambella al cioccolato strano che questi liquidozzi preso da sbappo caffè ricordiamo maria di cara moriciare e la spezia è andata da trovare una sortita scorta di liquido da andare a provare vedere box atomizzatori tutto quello che riguarda lo sbappo vado a provare sulla mac pro e il druga io in cima al ghani col cannevi cosa senti subito gabrie che ti vedo che sei un po' cioccolato cioccolato forte no normale la ciambella cioccolato molto molto buona la cioccolata all'aria non è male lo smaga non è forte che dici basta dai un paio di chili e ti stomaca è molto all day diciamo liquido all day allora dalla tabella dello swap è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo una pagina su instagram e su facebook vi aspettiamo il canale sta crescendo piano 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 siamo arrivati a 160 iscritti diciamo un piccolo traguardo una tappetta che piano piano va a salire noi siamo molto contenti vi ringraziamo per le vostre visualizzazioni dalla tabella dello swap è tutto ciao